Montalbano mancano due giorni, la sfida con la Versa Normanna, c'è un gelacarico che è arrivata a due vittorie consecutive e in questo caso come recita un vecchio adagio non c'è due senza tre, dunque l'auspicio, la speranza che domenica si possa conseguire la terza vittoria di seguito. Sì, domenica è una partita molto importante per noi perché in casa dobbiamo continuare questa striscia positiva sperando di portare a casa i tre punti e andare a cava con la mente molto più serena poi. Un gelac che è cambiato dopo la tremenda battuta d'arresto a Fratta Maggiore, proprio in quell'occasione avete trovato la coesione, un gruppo vero e proprio che dalla domenica dopo ha cominciato a vincere. Sì, il gruppo come nei primi giorni si è creato, c'è una bella situazione in casa nostra, però come dicevo anche l'altra volta nell'intervista la partita di Fratta è una partita a sé, noi dopo la partita di Fratta fortunatamente abbiamo avuto una grande squadra che è venuto a giocare in casa nostra e ci siamo potuti riscattare e da lì ora tutto è in crescendo. Noi dobbiamo affrontare ogni partita singolarmente pensando a vincere, dove andiamo non importa, con chi giochiamo non importa. L'importante è che noi ci divertiamo, ci mettiamo il massimo impegno e facciamo divertire la gente. Ma questi punti che voi raccogliete domenica dopo domenica servono a raggiungere la salvezza oppure a puntare play-off? Servono a farci divertire, poi quello che avviene ci prendiamo. L'importante è affrontare ogni partita con il massimo della tranquillità, il massimo dell'impegno e cercare di divertirci noi perché il calcio è un bellissimo gioco e chi viene a vederci si deve anche divertire. Nessuno in squadra ha il posto assicurato? Tutti abbiamo un ruolo importante nella Rosa, quindi chi va in campo, chi subentra, ognuno di noi deve mettere il massimo impegno per portare a casa i tre punti. Una settimana succede a me, una settimana succede a un altro mio compagno, l'importante è andare tutti per lo stesso obiettivo. Domenica a Roccella si è vinto negli ultimi minuti, è ancora più bello, no? Anche perché hai realizzato un gol. Sì, vabbè, l'importante era vincere, poi alla fine, all'inizio non importava, l'importante è che abbiamo portato a casa i tre punti che erano tre punti importanti per noi. Ci siamo sbloccati poi alla fine, ma durante la partita siamo stati molto compatti, molto sereni, tranquilli e poi alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato. E domenica arrivano altri tre punti? Con la versa faremo in modo che arrivino.